Buongiorno a tutti. Bentornati su TCS Telecosa Smeralda, il magazine Punti Strategici, ovvero le concessioni demaneani, quelle balneari, se ne parla anche al Governo. I primi due servizi sono dedicati a questo tema e allora cominciamo. Il comparto balneare rappresenta per la Sardegna un settore importante e strategico. In tutta l'isola sono circa 1950 le concessioni cui corrisponde un altrettanto numero di imprese con un'occupazione diretta durante il periodo estivo senza considerare l'indotto ben superiore a 4.000 dipendenti. Un sistema organizzato e produttivo che chiede però certezze alla luce anche dell'assenza di comunicazioni da parte del Governo, che avrebbe dovuto mettere in atto adeguate misure e correttivi per tutelare i legittimi interessi di chi è titolare di concessioni demaneali marittime per finalità turistico-ricreative ora in scadenza. Per superire alle mancanze dell'esecutivo nazionale, la giunta regionale nell'ultima seduta del 2023 si è fatta portavoce delle esigenze del comparto balneare e ha approvato un programma temporale delle macroattività per l'affidamento delle concessioni. In particolare nella prima fase, a seguito dell'approvazione delle nuove linee guida regionali per la predisposizione del pool, il piano di utilizzo del litorale, si procederà alla mappatura e pianificazione con l'analisi delle foto aeree acquisite, delle dimensioni degli aree nili, lunghezze e profondità, delle aree dunali, delle coste rocciose e lo stato di utilizzo delle aree demaneali per finalità turistico-ricreative dell'intera costa della Sardegna. Successivamente ci sarà l'adozione di tutti i pool dell'isola. Nella seconda fase invece in coerenza e nel rispetto dei decreti attuativi che il Governo emanerà in materia, si procederà a fissare gli eventuali criteri che tengano conto della peculiarità dell'industria balneare e delle aziende del settore che operano nell'isola. Si procederà quindi con la predisposizione e pubblicazione dei bandi in coerenza con quanto disposto dal Governo. La Regione è al fianco degli imprenditori balneari sardi, ha detto il Presidente della Regione Cristian Solinas. Quella turistica, insieme con l'agroalimentare e l'allevamento, rappresenta infatti una delle industrie primarie e fondamentali dell'economia sarde che incide in maniera significativa sul prodotto interno dell'isola. In quest'ambito, conclude il capo dell'esecutivo regionale, le concessioni damaniali per finalità turistico-recreative rivestono a loro volta un'importanza strategica. Avevamo davanti una scadenza, quella relativa al dispositivo del Governo, con termine al 31 dicembre del 2023, ma proprio i tempi stretti imponevano di accelerare quanto più possibile, ha spiegato l'assessore degli enti locali Aldo Salaris. Abbiamo quindi lavorato affinché ogni strada potesse essere percorsa e siamo adesso in grado di avviare un piano di programmazione che andrà a salvaguardare imprese ed occupati. Intanto la Camera di Comercio di Sassari mette a disposizione 80 mila euro per le aziende balneari per cercare di acquisire quel certificato importante di sostenibilità. Vediamo. Si chiude l'anno senza ancora una regolamentazione precisa dei bandi che dovranno ridistribuire le concessioni balneari. Il 2024 sarà l'anno decisivo, ormai è chiaro che dovranno essere messi a bando gli spazi fino ad ora occupati dalle tante piccole e medie imprese del settore. Ma bisognerà capire ancora come, in particolare, i parametri con i quali dovranno essere calcolati gli indennizi per chi perderà la concessione. La categoria per il momento è silente in attesa dei decreti attuativi, rassegnata al Dictat europeo che chiede il ripristino delle leggi di libero mercato e vieta i rinnovi automatici. Gli operatori quindi si preparano e nel frattempo la Camera di Comercio di Sassari ha pensato di concedere loro dei voucher per adeguare le strutture alle esigenze di sostenibilità ambientale. Una certificazione che darebbe a queste imprese punteggi in più per concorrere ai bandi. Il sostegno varrà il 60% delle spese riconosciute ammissibili e regolarmente documentate fino ad un massimo di 3.000 euro. Mettiamo a disposizione nuove risorse a beneficio di un settore che al pari di altri merita di essere sostenuto con strumenti che ne elevino il livello di competitività, ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. In questo senso, tutto ciò che siamo in grado di fare per aumentare competenze, specificità e formazione lo facciamo investendoci per favorire la crescita del settore. Un comparto, quello balneare, che nel nord Sardegna può contare su 848 imprese che operano all'interno delle tipologie individuate generando circa 2.500 posti di lavoro. La costa del nord Sardegna è particolarmente ambita non solo per la sua bellezza ma anche per essere meta di un turismo più benestante. Il numero maggiore di attività si concentra sul comune di Olbia 251, poi su quello di Erzachena 154, la Maddalena 97 e infine Alghero 88 attività. La norma ISO 14001 alla quale bisogna adeguarsi è alla base del sistema di gestione ambientale. Prevede che un'azienda consideri tutti gli aspetti ambientali critici per le sue attività quotidiane quali ad esempio la gestione dei rifiuti, l'eventuale contaminazione del suolo, l'inquinamento atmosferico, i problemi relativi all'acqua e alle acque reflue, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, giusto per citare i più rilevanti. Ora proviamo a ragionare sui modelli di accoglienza nei luoghi. Cominciamo dal bastione San Remy. Il bastione di San Remy, emblema di Cagliari, sarà interessato da un restyling profondo con un intervento economico che si aggira a 1,7 milioni di euro. Verranno posizionati nuovi pannelli di plessiglass e sedute più resistenti. Occhede l'aggiunta quindi al max intervento dopo il raid vandalice e dannaggiamente andati avanti per anni, previsti 365 giorni di lavoro e numerose ipotesi di intervento, anche se la più quotata punta a ripristinare l'esistente ma ripulito. Il comune di Cagliari ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e ripristino a seguito di atti vandalici e impermeabilizzazione della volta della cannoniera dell'Osperone, della terrazza Umberto I del bastione di San Remy. Il via libera è arrivato il 28 dicembre. Nella relazione tecnica si legge che l'obiettivo dell'intervento è porre in essere tutte le necessarie azioni atte a ricondurre un luogo che può a buon titolo essere considerato un emblema della città di Cagliari. Peccato che sia abbandonato al degrado. Gli atti vandalici, si legge ancora, sono soprattutto a carico delle panche perimetrali, dei rialzi e dei parapetti, ricoperti di graffitti rotti o mutilati di elementi essenziali. Probabilmente considerati alla stregua di suo venire e sono stati perpetrati, malgrado l'amministrazione abbia messo in campo strumenti dissuasivi, quali telecamere sensibili al movimento e servizi di sorveglianza continuativa. Il bastione ha poi un altro problema. I suoi parapetti originari sono troppo bassi. Alla luce della notevole estensione della terrazza non era possibile ipotizzare che gli affacci potessero essere normalmente custoditi da personale addetto alla dissuasione di comportamenti inappropriati, restando in capo al comune la responsabilità di tenere aperto al pubblico un luogo certamente pericoloso. Per questo sono state avanzate alcune soluzioni progettuali. Ora proviamo a ragionare sulle città e il ruolo turistico delle imprese, bar e ristoranti in primis. Due esempi, due modelli di accoglienza e servizi. Alghero e Olbia e il Capodanno. A questo aggiungiamo anche il capoluogo. È un titolo, le città e il ruolo turistico delle imprese, bar e ristoranti in primis, sempre più centrali e sempre in prima linea. Loro, sì, proprio loro, sono il biglietto da visita di ogni luogo che il turista sceglie di visitare. Sono i primi ad accogliere gli stranieri o i continentali, si dice ancora così, che cercano la Sardegna come meta delle loro vacanze. Lungo corte? Poco importa. E allora proviamo a dare le pagelle alla scorsa stagione e al mondo, al settore della ricettività. Con un occhio già rivolto al futuro prossimo, cosa è andato bene, quali sono invece le criticità da seppellire una volta per tutte. Allora, brutta che ancora c'è un sistema burocratico che non funziona. Italiano in realtà non è solo sardo. Se non usciamo dalla non simplificazione amministrativa, dalla non velocità, dal non capire che è più importante l'obiettivo che la procedura, non faremo mai nulla. La cosa buona è che ci sono veramente tanti soldi, vanno spesi bene, ma questo ci dà grande speranza. E c'è un grande fermento anche nelle comunità. C'è un fermento perché abbiamo capito che bisogna cambiare. L'economia della Sardegna passa attraverso questi cambiamenti. Già i cambiamenti, la trasformazione, la semplificazione potrebbero diventare i temi di questo anno nuovo appena cominciato. Anche perché l'industria turismo, capitolo servizi, vanta e conta numeri importanti. 1.200 aziende a tabar, ristoranti e locali, quasi 450 sono nel centro storico di Cagliari, 686 nel resto della città, per un totale di 1.124 imprese. Gli occupati sono 3.300, il 50% delle donne, dato in crescita, e meno male, e il 64% sotto i 40 anni, imprenditoria giovanile. E proprio per questo va aiutata ancora di più, proprio con la facilitazione della cosiddetta burocrazia. Capitolo fatturato ammonta a 265 milioni di euro. Il valore aggiunto a 130 milioni, insomma. Un mondo nel mondo, quello relativo ai pubblici esercizi che, in tutta l'isola, rappresentano un valore e un PIL, un prodotto interno lordo da non sottovalutare. Anzi, un sistema impresa da valorizzare ancora di più, anche perché il piccolo bar, magari al centro del paese piccolo, risulta fondamentale per il turista. Perché sono i primi destinatari di un servizio ai cittadini e ai non cittadini, quindi anche ai turisti o a chi si trova a passare. Quindi vanno aiutati, vanno aiutati come? Appunto come abbiamo detto prima, con meno burocrazia, con più semplificazione. Capendo anche quali sono le esigenze degli uni e degli altri. È chiaro che una città animata è una città animata, è una città dove qualche rumore c'è in più, forse, non sempre, va comunque aiutata ad essere economia. Un'economia buona, un'economia condivisa dai cittadini, ma un'economia vera, perché il lavoro passa attraverso questa economia. Economia, altra parolina magica che in questo 2024 diventa paradigma di sviluppo, di crescita di una regione, la nostra, che con il turismo deve fare i conti. Conti intesi come visione di sistemi di sviluppo e su questi presupposti sia la FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, già alla fine dello scorso anno ha tracciato le linee guide per cercare di valorizzare e ottimizzare al massimo l'industria dell'accoglienza. In particolare la FIPE Sardegna rimarca l'importanza di norme certe, una per tutte, un regolamento sull'occupazione e la sua applicazione per quanto riguarda le fonti sonore, l'applicazione del coefficiente ASL per l'esterno e relative sanzioni tradotto, l'importanza di trovare un giusto e sacrosanto compromesso per tutte quelle attività che, con il servizio all'esterno, creano indotto. Anche perché in una regione come la nostra, a parte qualche mese freddo, sfruttare gli spazi all'aperto diventa un valore aggiunto da non sottovalutare. I propri titolari di locali sono a lavoro per studiare e mettere nero su bianco, entro questo mese, un regolamento definitivo inerente al suolo pubblico. Anche perché solo attraverso strumenti normativi chiari e semplici si può tracciare il futuro di una città a vocazione turistica. Altro modello di turismo è il vino. Alghero? Alghero lo sa bene. Imparare ad apprezzare il vino, a saperlo degustare riconoscendo aromi e sentori, abbinare il gusto bianco, rosso o rosato al giusto cibo, conoscere da vicino il lavoro di chi lo produce. Ad Alghero inizia il nuovo anno nel segno dell'enoturismo e della formazione. Con cinque passi verso il vino, la cantina Santa Maria La Palma con i suoi 800 ettari coltivati, per lo più a Vermentino e la Pineria ed Enoteca alla Cantina, propongono un corso di degustazione e formazione in cinque momenti per appassionati del mondo enologico. Primo appuntamento il 17 gennaio dalle 19 alle 21 all'Enoteca alla Cantina Alghero in via 24 Maggio, per poi proseguire per i tre mercoledì successivi nella stessa location e il commedesimo orario. L'ultimo appuntamento sarà ospitato nella Cantina Santa Maria La Palma. Una visita guidata permetterà di conoscere meglio l'intero processo di produzione. Protagonisti saranno sommelier, docenti, enologi ed esperti del settore enogastronomia. Saranno affrontate una serie di tematiche legate al mondo del vino, uno spaccato sul panorama enologico, le tecniche legate alla degustazione e al lavoro in vigna e in cantina. Ci si soffermerà poi sulla professione del sommelier, sull'abbinamento cibo e vino e poi spazio a informazioni, anedoti e curiosità. Cinque passi verso il vino rappresenta una iniziativa pensata perché vuole approfondire la conoscenza del vino, dando gli strumenti per poter scegliere e degustare con maggiore consapevolezza un buon vino e magari scoprire un grande amore che si andrà poi a far evolvere con altri corsi e momenti di formazione, sottolineano i titolari dell'azienda. In questo modo si realizza uno degli obiettivi della nostra azienda, creare una vera cultura del vino a livello locale e regionale e rendere Alghero sempre più una città del vino. Bene, io termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine, grazie e cordialità. Grazie a tutti.